Ecco le condizioni disastrate di alcune vie del centro storico e dei quartieri cittadini. Sicuramente la situazione si è aggravata anche dal maltempo degli ultimi mesi, ma poiché sono diversi giorni che esistono queste buche, beh, che dirvi? Buona fortuna! Sindaco Maurizio Brucchi, abbiamo avuto diverse segnalazioni da parte dei cittadini terramani sulle strade di sestate, diverse zone che ci hanno segnalato. Cosa risponde? Quando saranno fatti gli interventi? Ma io dico che i cittadini hanno ragione, insomma, siamo consapevoli che ci sono diverse strade che sono da sistemare. Quest'anno abbiamo, nel 2010, abbiamo fatto 600 mila euro di asfalti, di manutenzioni, che non sono pochi ma non sono nemmeno tanti, con i quali abbiamo sistemato la viabilità principale. Nel prossimo anno, nel 2011, vedremo di sistemare le tante strade che hanno problemi. Siamo consapevoli che c'è la viabilità secondaria che ha tanti problemi, lo sappiamo, nel 2011 cercheremo di mettere riparo anche a questa situazione. Paghiamo anche un anno di fermo per le manutenzioni che è il periodo commissariale. Ma insomma, comunque, questa non è una scusa. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità. Piano piano sistemeremo anche le strade secondarie o comunque quelle che hanno più problemi. E sulle condizioni del manto stradale interviene anche il PD. Di ieri in un comunicato, afferma, la Giunta Brucchi continua a rinviare ogni intervento al futuro piano triennale delle opere pubbliche. Cosa risponde? Ma mi rispondo che il PD mi fa piacere che è il partito degli asfalti, perché se il PD si preoccupa solo degli asfalti vuol dire che Teramo non ha problemi. Quindi io sono contento del comunicato stampa del PD che ci richiama sugli asfalti e quindi vuol dire che gli unici problemi che il nostro territorio ha sono gli asfalti. Io sono soddisfatto perché sugli asfalti siamo consapevoli. Certo che il PD non parla del recupero dell'ex manicomio, non parla di Via Longo, non parla dell'apertura dell'8-0, non parla dei prossimi lavori che ci saranno su Via Po, non parla del recupero del teatro romano. Io mi rendo conto perché tutto sommato non potrebbe dire granché su queste cose. Guardi, è una polemica sterile, spicciola, che non porta da nessuna parte. Bisogna cercare di guardare lontano, guardare anche i problemi quotidiani. Noi su questo siamo presenti, anche se abbiamo alcune difficoltà sugli asfalti, l'abbiamo appena detto. Però insomma, se il PD fa comunicati sugli asfalti, insomma, ecco, questa è l'unità di misura in qualche modo che il PD ha. Io ne sono soddisfatto e sono contento. Gli asfalti li metteremo a posto con un po' di pazienza dalle amore risposte. Ma insomma, credo che Teramo abbia tante cose sicuramente, come dire, più importanti e di maggior pregio, programmi e progetti che daranno una nuova luce alla nostra città e li ho appena enunciati. Quindi su questo stiamo in qualche modo lavorando. Abbiamo ripreso il piano strategico, una programmazione che guarda lontano, perché Teramo deve guardare lontano.